ciao a tutti per contrastare gli effetti negativi delle gelate tardive oltre ai mezzi di difesa attivi e passivi possiamo agire sull'epoca di potatura infatti come già detto in altri video più ritardiamo la potatura più ritardiamo il germogliamento ora vi faccio vedere alcune prove che esemplificano questo comportamento della vite in questo pino bianco allevato a clst e potato il 7 di febbraio possiamo notare con facilità come la maggior parte delle gemme abbia schiuso nel medesimo appestamento le piante potate il 24 di marzo non hanno ancora iniziato il germogliamento e si trovano nella fase iniziale dello stadio vegetativo di gemma cotonosa in questo trebbiano romagnolo allevata casarsa la potatura è avvenuta il 15 di gennaio nel medesimo appestamento le piante potate il 15 di marzo si presentano a gemma cotonosa o tutt'al più a schiusura gemma ovviamente in molte situazioni non vi è la possibilità di potare tardivamente tutti i vigneti soprattutto nei casi di ampie estensioni e di vigneti non predisposti per la potatura meccanica detto questo vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video ciao a tutti